ciao bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video oggi vi voglio recensire due prodottini una review dedicata a due prodottini di haircare ma prima di cominciare mi raccomando lasciatemi un like al video per aiutare l'algoritmo e rendermi un pochino più visibile e seguitemi su tutti i miei social soprattutto su instagram che è il social che uso di più in assoluto vi lascio qua il link del mio instagram e iscrivetevi al mio canale youtube attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video allora i prodotti che vi voglio andare di cui voglio andare a parlare oggi sono appunto due prodotti di haircare sono privi di siliconi e sono questi questi nuovi prodotti di garnier al carbone magnetico e olio di semi neri di nigella sono dei prodotti studiati per cute grassa e lunghezze secche quindi comunque sono ideati per il mio tipo di capelli perché comunque io ho la cute grassa e le lunghezze più secche ma andiamo per ordine iniziamo con lo shampoo di cui forse ho detto qualcosina già nel mio instagram non mi ricordo comunque allora 94 per cento di origine naturale rimuove immediatamente le impurità e idrata per 72 ore a base di carbone magnetico e olio di semi di nigella come vi ho detto prima il pack è 100 per cento plastica riciclata sono 250 ml di prodotto per un po di 12 mesi e vegan dunque allora scopri il potere del carbone purificante dell'olio di semi di nigella idratante uniti nel nostro rimedio che agisce come un magnete per rimuovere il sebo dal coglio capelluto e offre idratazione alle lunghezze per 72 ore dall'unione di carbone purificante olio di semi di nigella senza siliconi coloranti artificiali ingredienti o derivati di origine animale allora purtroppo questo shampoo non mi è piaciuto per niente mi dispiace perché comunque insomma è quasi finito ora è forse 4 5 giorni una settimana che non lo uso perché proprio i miei capelli non non lo amano per niente nonostante sia uno shampoo ideato per il mio tipo di capelli però i miei capelli non lo amano allora capelli puliti per 72 ore assolutamente no però vabbè questo può essere una cosa mia perché io ho la frangetta metto la protezione solare metto le creme e tutto quanto poi con la frangio i capelli grassi quindi la frangetta diciamo diciamo che chi ha la pelle grassa la frangetta non dovremmo utilizzarla perché comunque la protezione solare che usa è molto corposa ed è quella dell'equilibra non si assolve tanto bene quindi quando io poi non è che non me la posso mettere sulla fronte ovviamente la metto su tutto il viso ne metto una quantità industriale per come va messa naturalmente il capello si ingrassa quindi diciamo questo ingrassarsi subito può dipendere da questo quindi non è questo il problema il problema è che mi lascia i capelli estremamente secchi questo questo shampoo estremamente secchi estremamente duri quasi come se fossero canapa no zero cioè qua c'è scritto che è idratante per le lunghezze ma non sulle mie non sulle mie i miei capelli proprio non lo sopportano questo shampoo mi dispiace perché garnier comunque è un brand che mi piace però ovviamente le cose sono sempre molto soggettive naturalmente e quindi nel mio caso io ho i capelli grassi in cute più normali secchi sulle lunghezze e fini e diciamo che no questo shampoo lo sta finendo mio marito perché appunto i miei capelli non lo supportano però sicuramente non è uno shampoo che consiglio perché a me non è piaciuto naturalmente non so chi di voi l'ha utilizzato scrivetemi sotto i vostri pareri anche se avete una cute diversa dalla mia anche se vabbè tecnicamente uno dovrebbe prendere gli shampoo che sono adatti ai propri tipi di capelli quindi tecnicamente chi compra questo shampoo ha i capelli come i miei comunque ditemi i vostri pareri se l'avete utilizzato però no 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 è un no grosso quanto una casa uno shampoo che non ricomprerò mai più perché comunque non fa proprio per me assolutamente proprio il capello secco me lo sentivo e crespo come la canapa me lo sentivo già sotto la doccia quando andavo a risciacquare lo shampoo già io sentivo il capello assolutamente arido quindi niente questo è proprio bocciato per quanto mi riguarda passiamo alla maschera allora la maschera high remedy non so se si dice così perché non è che io sia molto ferrata in inglese comunque maschera di 3 tante 72 ore un minuto lunghezze secche capelli non appesantiti allora anche questa è vegan 12 mesi di pao 340 ml di prodotto il pack è bellissimo mi piace veramente tanto l'odore è molto buono si presenta in questo colore veramente buono come anche quello dello shampoo è buono come tutti i prodotti di garnier hanno un ottimo odore allora io l'ho utilizzata sia come impacco pre shampoo sia anche se qui non c'è scritto che si può usare come impacco pre shampoo però io l'ho utilizzata anche come impacco pre shampoo quindi l'ho utilizzata come impacco pre shampoo e l'ho utilizzata anche dopo lo shampoo l'ho utilizzata anche in combo e posso cioè sui miei capelli quanto meno in combo non funziona questa maschera perché questa questo shampoo me li secca troppo i capelli quindi diciamo non ha non riesce a rimediare non riesce a rimediare alla secchezza che mi da questo shampoo quindi in combo no per me sto parlando di me naturalmente però utilizzata con altri shampoo più delicati ha una performance assolutamente fantastica sui miei capelli la sto utilizzando insieme a uno shampoo della sien che vi ho mostrato su instagram è uno shampoo biologico biocertificato un nuovo shampoo e mi pare che è alte verde veramente buono ma poi vabbè ancora sono prime impressioni poi ve ne parlerò più avanti e devo dire che in combo con quello comunque con qualsiasi altro shampoo che non mi secca i capelli come questo è assolutamente ottima sia utilizzata come impacco per shampoo e quindi tenuto una mezz'oretta sui capelli sia utilizzata dopo lo shampoo tenuto ovviamente di meno perché io i capelli me li lavo sotto la doccia quindi naturalmente non è che posso stare dieci minuti mezz'ora anche perché qui c'è scritto che riesce in un minuto magari un minuto mi sembra un po' pochino ecco lo tengo sempre almeno un paio di minuti al massimo però diciamo funziona in entrambi i modi è veramente molto buona non appesantisce i capelli assolutamente una maschera piuttosto leggera veramente ottima questa è super consigliata davvero se avete capelli comunque con cute grasse lunghezze più secche normali secche e non riuscite a trovare un prodotto che non vi appesantisca i capelli e io ne so qualcosa perché a me appesantisce i capelli qualunque cosa che io vado a mettere che io ci vado a mettere sopra e i miei capelli si appesantiscono con uno niente comincia a fare caldo con sotto tutte queste luci comunque qua a Messina ci sono 30 gradi già di mattina presto quindi comunque si comincia a fare veramente caldo vabbè comunque a parte questo piccolo appunto è una maschera che io straconsiglio a chi ha i capelli come i miei fini che tendono ad appesantirsi con cute grassa e via dicendo perché è veramente molto molto performante top e l'odore sui capelli è un odore che permane ma non come le air food l'odore delle air food permane più a lungo questo si sente lì per lì però poi svanisce dopo un po' però l'importante è la performance per quanto mi riguarda sui capelli ed è davvero ottima quindi ricapitolando shampoo bocciato maschera assolutamente promossa ok per questa settimana è tutto se questo video vi è stato utile se vi ho tenuto compagnia mi raccomando lasciate un like ditemi cosa pensate di questi prodotti se li avete usati se la pensate come me oppure no e magari specificate anche il tipo di capelli se siete soliti comprare comunque i prodotti per provarli magari avete un capello diverso dal mio e niente ragazzi mi raccomando seguitemi su tutti i miei social soprattutto su instagram e lasciate un like al video ve l'ho già detto e iscrivetevi al mio canale youtube attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video ciao ciao e al prossimo video ciao